Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video della prova a non ridere challenge Allora, perché sto facendo la prova a non ridere così a caso? Perché è proprio a caso, ho trovato questo video di questo canale che in teoria li fa davvero bene questi prova a non ridere E ovviamente la sfida è sempre quella di provare a non ridere, completamente a caso E quindi partiamo subito Ovviamente ragazzi mi sono fatto prendere la mano e non è più una prova a non ridere, è diventata una ridia più non posso challenge Quindi scusatemi, voi provate a non ridere mi raccomando E' bello che sono presi da Vine, no? Quindi ci sono anche tipo tutte le voci Tipo in base c'è scritto quando Pikachu c'è nella, compare nella stanza accanto Ah sfondi il muro? Alla grande, sfondiamo il muro Questo sono io quando monto i mobili dell'IKEA Ora prova, non lo so Oh Oddio sono andato a fuoco ai capelli Sì Coi so Non devo ridere, non devo ridere Eh, questo non è da ridere zio Oddio Oddio mi ha avuto un colpo La ginnastica quella rimbalsosa Il cane che cerca di dormire Povera, prova a lavarsi le mani e non ce la fa Bellissimo Un pesce assassino Oh i gattini, i gattini Ah, stava dormendo, ma cosa? Nice Sto facendo ginnastica in modo porto particolare Attenta Oddio Successo in musicale Oddio, bellissimo Escono cose dalla stampante e si autodistruggono Ah, 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 ah Sono bellissimo Che è? Che è? Che è successo? Ha paolo degli abbracci Ora deve saltare nella piscina? Mi sembra abbastanza semplice Buono No, non ne ne sbaggersi Stai giocando con una... come si dicelà Che sta facendo... minchia che ha rotto Che sta facendo Oddio Aia Merry Christmas Perché l'ho messo un palo in mezzo alla porta Guarda ora com'è Ah è vero che ora brucia Questo l'ho già visto Bellissimo Bellissimo Oddio No cosa fai No bambina Mamma mia Che ha fatto Oh damn Dabba Ma che cosa No ragazzi fa troppo ridere Non è il meno che provano a ridere i challenge È una ridi più che puoi challenge Cos'è? La bicicletta? Che contento Ti abbiamo regalato la bicicletta Non è una bicicletta? Come? Attenta attenta bambina Cosa fa lui Com'è possibile? Che è successo? Si è incastrata nello scivolo Che sta facendo lei? Arca puttana Ma perché c'è un cane sul tetto? Perché? Ora cade il tavolo sicuro Eccolo 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 Vabbè Minchia bello quello Povero cane Ah i cani che ballano Ma che cosa? Storia of my life Tutti gli ombriati rotti Che è successo? Ah il cammello Bello Quei cazzo fa? Vai Metti la pallina vai Minchia Ha trollato tutti Quella è una faccia Cos'è? Stai giocando a golf? Oddio Non ci credo Questa è la nuova challenge Ah bella La farfallina Ah Era il pranzo Di un uccellino Perché? Oh Oh Aia Che è successo qui? Ah Oh Carino il cagnolino Cos'è quel ca... Povero Perché Che su... Ehm Poglia Qualcuno prendrà un botto di mazzate Che sta facendo? Ah Si è sentito il botto tantissimo Non è troppo bello questo coso È troppo bella Ahia Ahia Ecco Quello sotto è morto È morto Io però Troppo forte Sto piangendo Poglia Che è successo qui? Oh Della serie Dove è tizia il mio cuscino? Ah si Questo è vecchissimo Questo è vecchissimo Le botte che prenderà dalla mamma difficolti Che se Ahia 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 $50 Ahia! Oh! Oddio! Gorilla? Donkeys? Non l'ho capito. Aiaia! Cosa sta facendo? Sta disegnando la... È bellissimo! Ah, aia, aia, ora arriva il pugno del padre. Oh! Ma cos'è? È un pupazzo di neve sta cosa! È l'Ummino Michelin! Oh! 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 Ahahahah! La faccia che ha fatto! Aia! Ahahah cliccato. ahahahahah ahahahahah oooh oh gattino ma cosa è stato nella batcaverna e ora come crazzo esce no zio cosa ha fatto ahahah oddio fa paura oddio fa paura aia aia attento 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 girati girati cazzuridi ahahah ragazzi questa era la prova ad un ridere challenge più improvvisata della storia si quella è una chitarra che ho comprato perchè voglio far ridere ancora di più ci vediamo in un prossimo video spero che questo vi sia piaciuto ho fatto una compilation di questo prova a non ridere e ciao 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 ciao